Rivolto a 140 persone fragili, il progetto Azalea, azioni di accompagnamento al lavoro e inclusione attiva, è la misura che il Comune di Pescara, in qualità di capofila, rivolge ai cittadini pescaresi. Un progetto finanziato con 1.291.658 euro del Fondo Sociale Europeo. Azalea si compone di due linee di azione. L'attivazione di uno sportello per l'inclusione sociale e contrasto alla povertà per la presa in carico dei 140 beneficiari e la creazione di progetti personalizzati. A questo scopo CNA e Confesercenti redigeranno un elenco delle aziende che ospiteranno i partecipanti al progetto. 140 tirocini in favore dei beneficiari per un periodo di 12 mesi, di cui 100 tirocini di inclusione extracurriculare e 40 borse di lavoro con una indennità mensile variabile fino ad un importo massimo di 600 euro. Diamo un aiuto concreto perché un anno di formazione e tirocini formativo pagato vuol dire un contatto con l'impresa diretto per un anno e quindi vuol dire che molte di queste persone che saranno introdotte con questo sistema può darsi che saranno riconfermate dalle imprese per le attività lavorative. Quindi è un aiuto concreto, mi fa piacere che questa iniziativa parta dal Comune di Pescara e dagli altri comuni che fanno parte del territorio della montagna pescarese perché diamo un segnale chiaro di attenzione a coloro che soffrono, a coloro che hanno bisogno anche a coloro che hanno un'invalidità e che hanno delle difficoltà lavorative e in questo caso riescono a trovare una strada.